Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No, il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune! Salve indagatori! Detesto le contraddizioni! Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine! Novembre 2021 Oggi l'uomo comune è nei guai. Grossi! L'uomo comune di oggi crede solo nella politica, per cui può mettere una crocetta ogni cinque anni sulla scheda elettorale, dopodiché può solo subire ciò che i partiti decideranno durante i cinque anni. E poi può guardare le discussioni politiche in tv con l'illusione di essere uno dei protagonisti. Se l'uomo comune avesse ancora i principi essenziali della religione, allora sarebbe in grado di fare tutto quello che hanno fatto gli uomini comuni fino agli anni Ottanta. Se oggi l'uomo comune è senza l'essenziale della religione, ciò è certamente avvenuto per colpa delle comodità del mondo, ma anche del concilio Vaticano II. L'essenziale della religione L'essenziale della religione nei riguardi dell'uomo, non di Dio, significa 1. Concepire l'intervento di Dio a favore dell'uomo comune a. Come Dio in Egitto che ha aiutato gli schiavi, anziché gli schiavisti b. Come il figlio di Dio Gesù che si è fatto uomo per salvare dal peccato 2. Comporta la maturazione dell'individualità perché costringe a pensare alle proprie azioni quotidiane per accedere dopo la morte alla casa di Dio 3. Anziché essere cacciati fuori da essa 3. Comporta il considerare come tendente a peccare anche gli altri, oltre se stessi 4. Dunque si è maggiormente disposti a giudicare gli altri come ingannatori e ladri, anziché ingenuamente come incapaci in buona fede nel fare il bene comune. 4. Comporta il dovere di lottare contro il male 5. Che significa? Sia il lottare per i propri diritti contro gli oppressori 6. Sia il pretendere che le autorità compiano i loro doveri 6. Perché anche Dio punirà per l'eternità coloro che ingannano, derubano e riducono la vita 5. Comporta il minimo comune denominatore degli interessi individuali tra persone sconosciute, che permette a ciascuno di superare la sfiducia nell'altro, generata dall'individualismo italiano solipsistico, solitario. 6. Comporta tante altre cose Attenzione! Anche il mondo insegna all'uomo comune una concezione della dignità umana, ma è a svantaggio della sua vita piena, della sua libertà, della sua umanità. Chi è Dio? La teologia dell'arancia. Chi è Dio e come ragiona? Lo si comprende aprendo la finestra e guardando il mondo. La Bibbia viene dopo. Può sembrare banale, ma è efficace e sicuro. Dio è l'ideatore e il costruttore dell'arance, delle albicocche, delle ciliegie, del mare, della montagna, ecc. Un'altra specie di tempio di Dio, per nulla considerato, è il supermercato. Lì ci sono sia dei prodotti fatti direttamente da Dio, sia altri prodotti, come la pizza, la crostata, il gelato, fatti indirettamente da Dio attraverso l'ingegno umano, che è un'altra invenzione di Dio. Inoltre, questo Dio, oltre che potente, è anche generoso, dato che ha fatto tutte queste cose per l'uomo. Infatti, Dio non mangia le arance che ha fatto sulla terra, ma ha fatto le arance perché le mangiasse l'uomo. La teologia dell'arancia apre il discorso all'aldilà. Come sarà fatto l'aldilà? Che cosa ci sarà? Secondo logica, la terra è la brutta copia dell'aldilà. Secondo logica, nell'aldilà c'è tutto ciò che c'è sulla terra moltiplicato mille in qualità. Per esempio, c'è la millo arance, ossia un'arancia mille volte più buona di quella che c'è sulla terra. C'è la millo ciliegia, la millo albicocca, il millo cacao, il millo caffè, eccetera. Cosa è l'aldilà? È la casa e i terreni di Dio. Anche la terra è di Dio, eh? Pertanto, che cosa pensa Dio dell'uomo? Secondo Dio, l'uomo è meritevole delle arance della terra e delle millo arance del paradiso dopo la morte. Invece, per coloro che hanno delle antipatie eterne verso Dio e verso gli uomini che sono nella casa di Dio, dopo la morte c'è liberamente e logicamente il fuori casa e fuori dai terreni di Dio, dove c'è l'assenza di tutto. C'è il nulla. Lì nemmeno il buio esiste. Non c'è la luce e non c'è nemmeno il buio. È il concetto di tenebra, l'assenza di tutto. Tuttavia, questo è il luogo migliore per queste persone, perché qualunque cosa proveniente da Dio provoca sofferenze a coloro che lo detestano. Logico. Così, se la vita in questa condizione del nulla provoca sofferenza a tutto l'essere umano, coloro che lo scelgono, questo luogo, soffrirebbero molto di più il solo guardare il paradiso, Dio e le persone che hanno scelto di vivere lì per l'eternità. La logica dice che, al vederli, queste persone provano un ribrezzo e un disgusto totali. Per cui, per loro, meglio là che lì. L'essenziale della religione ha vantaggio dell'uomo comune. L'essenziale della religione utile all'uomo è, ah, il concetto di cosa Dio fa per l'uomo. E l'abbiamo visto con l'intervento in Egitto, con l'incarnazione del figlio di Dio, con le arance. E b il concetto della condizione individuale dell'uomo dopo la morte, che è riassunta dalla terna di opzioni, paradiso, purgatorio, inferno. Che comporta l'argomento del bene e del male e l'argomento della vita nell'aldilà. Il vantaggio complessivo per l'uomo di questi due punti dell'essenziale della religione è lo sviluppo dell'individualità, che è cosa diversa dall'individualismo, che ne è una esagerazione. Con l'individualità, l'uomo sviluppa la percezione dei diritti individuali, e pertanto anche la capacità di lottare per essi, al rischio della vita. Ossia sviluppa la capacità di porre la dignità personale al di sopra della vita corporea. Perché, se non è possibile una vita dignitosa, allora che lo sia almeno la morte. Come funziona nell'uomo l'essenziale della religione? Nella seconda parte, come funziona nell'uomo l'essenziale della religione? E il problema di vivere nella lobbycrazia, anziché nella democrazia? Ci sentiamo, indagatore! E indagatore! Qua c'è il prossimo video!